io ho assoluti, bisse utvanezati, vito i utvanezati, tramvajentoni, stuogestane, che vedete, da questa pinza pada stimolo, ma gutvanezati, si pidi siano, vito, da questa l'uoti, appreste, mai credo, suscríbete, cominciate, passiamo, ciao io ho assoluti, ho apprezzato, se stava finissima, siamo bucati, cucciati, l'uoti, 6 minuti a tutta l'anima, bucati tv, ho accasca da me, ciao 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 e quindi qui vediamo mi spavano l'arrivo l'arrivo mi spavano qui è qui mi spavano la scuola i vinti vedo e non un po' stai prima di stai si troppo questa strosta inti stai 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 questa stai 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 po' e stai 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 minuti, 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 tutto va lasciati, tutto va lasciati, vittimo l'acqua, tutto da la porta no, minuti, minuti, va lasciati tolligvi, mi hai giocato? avanti, mi hai giocato? perci, che dei 500 km, ci sono passato vittimo, mi arriva se senti erano Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.